buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova live di fortnite dove gioco con i miei ragazzoni sto entrando in lobby chi viene a giocare ora vedo se c'è qualcuno in lista se non c'è nessuno invitiamo a caso vediamo prima subito se c'è qualcuno in lista siamo prima sta cosa perché ogni volta ciao young ciao sono entrata adesso in live da sola ora ora sono entrata tanto comunque ora è invitato a caso quindi facciamo una partita certo sei capitato proprio a fagiolo come si suol dire benissimo adesso invito un amico eccolo qui ciao 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 ragazzi potete guardare sul canale di twitch di talpina talpina 93 giusto no talpina channel talpina channel scusami tanto ti seguo sono el magico grande aspetta cacciato acquista richiesta l'amicizia ok allora iniziamo è portato i tuoi amici a vedere quanto sono labba è il magico bene ragazzoni però voglio i cuoricini e non non gioca nel papero ne ha adesso stasera quindi nel papero ne ha adesso no ed come lo chiamo io ed si io ed lo chiamo che ogni volta lo chiamo se no in modo diverso allora ho deciso di chiamarlo ed ho deciso così ciao fenix non ho mai detto che avrei iniziato alle nove e mezza ragazzuolo ho detto che sarebbe arrivata dopo anche perché ho finito che erano quasi le nove la live precedente dovevo pure mangiare fatemi cibare altrimenti potrei mangiare il joypad andiamo dove vi pare di tanto non conosco nessun luogo vai cibare altrimenti potrei mangiare il joypad vai cibare altrimenti potrei mangiare il joypad ragazzoni vi voglio nell'off family ciao gio ciao tommaso naldoni ciao benvenuto clicca sul foricino in alto a destra inizia anche tu a far parte della famiglia gio per entrare devi scrivere in chat punto esclamativo coda e seguire le istruzioni di stream element come al solito anzi anzi che ancora non mi hanno ucciso sul tetto mi ha attaccato uno eh sì ma c'è eliminato eliminato eccolo no maledetto dietro la casa tensione grazie chierua per il ride ciao softedo eh siamo scesi male mi sa molto male grazie chierua grazie giovanni per l'host fatemi chiudere qui grazie per il follow softedo benvenuto nella family e il macchi con gli adette due amici che io canto benissimo io abbandono ragazzi va bene buona live buona serata ciao ragazzi ciao eh entrando ha fatto una partita solo e se n'è andato ah vabbè grazie softedo per l'host grazie mille no no si follow no ho anche fatto l'hosting mi toccati pure le cose al moderatore softedo ciao anche a te allora vediamo un po' Joe visto che tanto in coda per il momento non c'è nessuno se vuoi entra va bene chierua buonanotte e grazie grazie mille allora vediamo un po' ciao manu entri che ho combinato ah niente di che ok il signor manuelito tv è desiderato in lobby grazie ma no non ti sembra di essere un po' al conad mentre fai la spesa a domani notte a tutte ho sempre a lavorare a chierua l'hanno abbandonata all'ad alpina no ecco il manuelito biscottone vediamo un po' chi altro entra fenix vuoi entrare? visto che non c'è ancora nessuno in coda ma non c'è ancora è vero ma non c'è ancora un po' qui non c'è ancora un po' qui non c'è ancora una cosa Arrivo Baffuto Entra tu allora Qualcuno entri Dai che ci lasciate da soli Checco vuoi giocare? Tanti non hai i modi di compiere il canale Kirua si una c'è Mi pare che il moderatore l'ha messa oggi Però non riesco a metterne più di una Cioè se sapete come farlo Psss Eh Psss Dimmi Psss Niente Ciao a tutti Ma ti è andata via la voce? No eh che non mi devo far sentire Ah ok A posto Non è vero In realtà mi fate parlare così Portaggi Vabbè Tuttasera così Va bene Ti voglio vedere mentre siamo Poi in partita Se parli così Va bene È una sfida Ma tu immagini Tuttasera Psss Regà Oh ma guardate Chi è entrato? Mariotto Bravo Buonasera Ciao Mario Ciao Eccolo Che altro facciamo entrare Andiamo a caso? Non può Non può Abbaffuto E quindi Invitiamo a caso Random Vediamo se c'è qualcuno Che Conosco Ok Leggi tu Mariotto 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 Eh Come stai? Ma sono bene Da posto che Che bene Che ecco E che invitiamo Vieni a se Ttc Invitiamo Che sa Tutti Eh Dimmi Pss Chi è che a scorreggiato? Non lo so Lo stavo per Dio Ciao Fades Ciao Fades Ma Che 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 Capi Come Mette Le altre Modicon Manu Ma Quali Altre Perché Siamo Riusciti A Metterne Una Sola Tesori Miei Ne Potete Mettere Solo Una Allora Lo Vedi Ci Hanno Detto Di No In Chat No Se Avete La Partner Ne Potete Mettere Di Più Ma Con L'affiliazione Solo Una Solo Una Ne Possiamo Mettere Con L'affiliazione Capito Solo Una Con L'affiliazione Allora Fates Sei desiderato In lobby Vieni Fates Vagaboglia Entra Però C'è Fates Esci la voce Perché Si parla Così Esatto Mario Dove sei Fates Fates Ce l'hai Discorso No Si Ma Non Lo Uso Quasi Mai Pss Non Te Sento Fata No C'è Mario Da PC Non Gioca Perché Mario Da PC Vabbè Allora Fai Come Vuoi Fates Niente più ASMR Per te Fates Invitiamo Camillo The Best Vuoi Esco No Vieni Camillo Invito a caso E chi è caso È Camillo Mario Oh Ciao 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 Non è Non è Non è Non è Non è Ciao 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 Oggi si parla così Non è Non è Non è Caccio Cicci Vabbè Ciao Cicci Ciao Ciao Se ne è Dato Ci ha Fata Paura Ma chi era Facciamo scappare La gente Mario Era un amico Mio Ok Vabbè E lui Il caso Sì Lui è Il caso C'è Il caso Ciao, Kami. Psss, Kami. Lo, lo. Kami. Psss. Chi è che... Oddio. Raga, stasera fanno una live ignorante. Bene, imbaffuto, dopo ti faccio entrare. Ciao, Banzona. Ciao, Banzona. Come posso mettermi in coda? Eh, lo so, Baffo, ma mi hai detto che non c'era, io sono andata. Io sono andata, dopo ti faccio entrare, non ti preoccupare. Stasera ci sono due posti, raga, eh. Quindi alterno due persone, perché c'è anche Manuelito, che gioca con Mua. Oggi. Ma chi? Che cosa, ma chi? Chi gioca con noi oggi? No, ho appena perdito in chat. Che ho solo due posti da alternare, perché tu giochi con me. Chi gioca con te? Tu. Che cazzo. Andiamo? Vabbè, non lo so. Andiamo lì. Ma lì dov'è? Ora, ora. Seguitemi, cazzo. Va bene, Mario. Dove sto andando? E che ne sono Mario? Vabbè. Ma dov'è qua? Ah, ok, qua. Ok, c'è, c'è. Ciao Giulia. Ciao Giulia. Oh, mia cara. Ti prego, vattene tu. Tu che sei l'unica. Oh, santa faccia, aiuto, mi sono distrutta. Eh no, eh no. Cazzo, eh. Non so. È la piracottara del cavolo. Benvenuto, taskmaster. Metti il cuore scinerato a destra e inizi a far parte della... Farmi di anche tu. Grazie per il follow. Taskmaster. Master. Vai l'altro. Benvenuto, dammi di. Ok. Ma Mario. Tagli il biscotto, siamo con te. Eh, siamo a post. Volevo vedere come giochi. Fates, donali veramente sti soldi. Non so, Kirua. Però ci stiamo a tagliare troppo a parlare così. Buonasera, tanca a te. Oh male, non c'abbiamo più la voce. Mano, Kirua ci ha appena scritto che questi sussurri sembra di stare dentro un film horror. È più figo. Ma che... Ma che... C'è rotondo. Ma che... Non c'è... Ma zappalline. Oh... No! Ma che... Ma zappan... Non c'è... Ma zappannène. Così è matto di far una bassa voce Ci parliamo all'orecchio, capito? Ma cos'è sto ASMR? ASMR Sono i suoni rilassanti Lo fanno anche con la voce, capito? No Cioè stanno tipo quelle che dicono Bene, adesso vi state rilassando Tipo fanno così tutto il tempo Capito? E quindi uno si rilassa Ah, ok E noi parliamo come loro ASMR ASMR Di gruppo è questo Baffuto Dopo questa partita Faccio entrare Altre due persone Buon Natale Ma non ci vuole un biscottino Giulia per favore no Ciao Emanuele Certo che puoi giocare Non ti preoccupare Ciao Tony Mi vedi verde Ah no, dietro si vedi verde Perché si vede Mi muovo troppo velocemente Rispetto al green screen Sono mezza verde Sono mezza verde raga Ma chi è che fa... Mario E va bene Hai mangiato i fagioli ma Va bene che siamo ASMR Però Siamo asma Siamo asma Non ti rilassa troppo Insomma Minca Raga ho delle pende Abbiamo vinto Io invece non combino Ma tu sei un cazzo di coglione però Ecco a posto Basta Non siamo più ASMR C'è uno due qua Ma che cavolo E anche io lo skinnimo rispondo Raga non ho un'arma Facca boia No sono morto Ma io ce l'ho Ho provato il gioco Che ti ho detto Sì l'ho provato Tony L'ho provato Non è che mi dispiace Sinceramente Anzi Mi piace Però c'è una grafica Nì Facca porca Sara Sara Tira me su Do stai Fuori Arrivo Salve Salve Non so Non so Riuscire a trovare un vampa Eh No no Ce l'ho l'arma Ce l'ho ce l'ho Ok Ce sta uno Lo so Al massimo Grazie Non ti preoccupa Ma che è Oddio Mi sembrava veramente Una dell'orrore Oh Porca miseria Fatto ti ammazza a quello Camillo Io so che a scala di tutto Camillo Ma chi è Camillo Che cazzo Tu sei Camillo Ti chiami così Ah ok Ma non scordate Mangia le mele Non mi piacciono Fa finta che so bere Ti piacciono le mele Manu No si mi piacciono Mi piacciono Ah posso Solo quelle verdi però Quelle che scrocchiano Ehi parla via Ma distrugge tutto Si perché non c'ho figlia Ma dove stanno Quelli di prima Non lo voglio sapere Si giù lì Veramente da questa notte All'una Però siccome voi Dovete andare a scuola Domani o meglio Tanti di voi Vanno a scuola domani La live La faccio direttamente domani Così giochiamo insieme A B Candy A chi? B Candy Esce la nuova mappa Di PUBG No tanti lo chiamano pubg O pubg Però a me non mi piace A pubg Così Non ne capisco il motivo Non lo star con Sire Parca miseria che mi alza leggermente la voce Che brividi Io no No dai No dai No dai No dai No Ciao 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 Vinci Ragazzi Mettete punto esclamativo Coda Vi esce la coda di Pikachu Se vuoi Baffuto deve giocare Sì sì dopo Quindi mettetevi in coda Io Finita questa partita Faccio entrare due ragazzi Che sono presenti nella coda Non mi interessa Chi me l'ha detto a voce prima Faccio entrare due Perché mi hai chiuso di sotto Cioè Tu sta bene Edita Sei malvagio Cioè poi mi butta le cose di sotto Mi butta le cose di sotto Mi so baggato Tipo no Le nonne quelle del paese Capito A nonna c'hai fame Ti butto un panino dal bacco E niente preoccupato Però manca il cestino Che cava giù dalla finestra Esatto Ma a te serve qualcosa? A me? No niente Credo niente Che ne so C'è un po' di roba Ciao Miki Io rompo tutto Perché l'unica cosa che mi manca Sono i materiali Che tanto non uso però Prima sono serviti Ho visto Ho creato una casa Come quelle che creo Su The Sims De soli Domani Le norme Dai 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 Andiamo a vincerla Si 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 prova Certo Quante ne hai vinte fino adesso talpi Io? Rivelle in squadra l'hanno con Faze Tante perché l'ha vinta tutta lui Quello mi fa 13-14 kill per partita E' forte Jayza Poi gli dici che è pro E lui gli dice no Non è vero E' potente E' potente ragazzo Dietro Dietro Eccoli col quad laggiù Maledetti Passano a sinistra No no Sono diversi Se è così facile entrare qua dentro A dirlo che poi distrugge tutto Distruttiamo tutto Sono buoni Sti biscotti Che biscotti che stai a mangiare Io prima mi sono fatto a ciobar No Se chiamano sigarini No sicuro sono buoni C'è il cioccolato? Si Allora sono buonissimi Stanno a feitare Io sto a distrugge Ando mi star mano Ando in là Ma mi ha chiuso dentro Oh no ecco Perché vai a fuoco? Che c'è? Tony si L'ho appena detto Che mi sono fatto la ciobar Oh ti sparo Nelle ciappette Manu Tanto ho già so bruciato Guardali Guardali Da sosti Maledetti Tanto Eh vabbè però eh Non l'hai preso? Manco una volta Dittagli Che te prega Oddio Io mo so tre ore così Io rompo il muro Sta cercando di imparare dal manue nido Eccoli Tenta Uno c'è il palloncino Uno è là Sono in tre questi Andiamo via Andiamo via Quattro Via 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 Da voce Da voce Ahie Manu Giulia Minorenne Chi? No è che c'è un Manuel Bisini Che c'è prova con Giulietta mia Questi me le fanno scappare donne Me le fanno scappare donne Dalla Femini Già sono in sette sole Ah ve lo dico subito C'è pure l'ADD Che fa parte della Femini Ma è fidanzata Eh Quindi Ci provate Col ninja di Bergamo Esatto Oh ma sta barba allora T'ha semessa te a barba lunga Sì sì No mi manca solo bestemmia E siamo a posto Ah io invece me devo tagliare i capelli Minchia la dovremmo fare Una parodia però Sai che Clickbait Da madonna Lì vai a ride Marca miseria Quanto io sto abituata Attraverso i Meveromics Sai c'è Mi temo su Ciò va Aspetta un attimo Studiarmi La parlata barese E poi siamo a posto Va bene Ciao Alessi Ciao Alessi Ti piacciono le mele Talpina Sì dove stai Me lo aspetta un attimo Salvo Metti un cuoricino in alto a destra Inizio a far parte della Femini Ma dove stai? Sotto No l'ho trovato E qua io c'ho il Jigal Che mi distrae C'ho il Jigal Che mi distrae Mazza quante mele Ti viste Eccomi Oddio tantissimo Ciao Mario Mario allora La stiamo a finire sta partita Sì È salvo Chi? Cadetto Non l'ho capito No baffo Tranquillo non era per te Era Manu che ci trovava con Giulia No Manu C'è una villa C'è una villa Ah è 15 Va bene Una villa Quella è una villa col centro commerciale Parte del villa Abriatore Che miseria Che miseria Ah mi ha capito Vabbè andiamo in safe Possiamo andare sopra la montagna Però ci aprono Il sederino In tempo zero Poi ci possiamo provare Vabbè pazienza Io vorrei di niente Siamo rimasti in sette Ecco ha detto Brava Sono inglesiata Perché non te sei fermata Al non vorrei dire niente Ciao Critaus Benvenuto Clicca sul cuoricino C'è una tante street Anche da far parte Della family Family Ah no Non è cantata Questa buona Che ha sentito Un bel rumore E' al giù Guarda E' al giù E' Che stanno 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 sopra Che domande Un voletto Tutto So in due Manu Tanto Vediamo Allora Allora Vado 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 Allora Allora questo macello raga però però grande l'audio però tacci vostra ma perché si sente doppio che ciò che è la risa aperta ragazzi belli alla prossima va bene ciao mariotto allora io guardo ancora che devo fare entrare c'ho baffuto e basta ragazzi chi vuole giocare si mette in coda e scrivete in chat punto esclamativo coda stream elements vi dirà come fare per mettervi in coda da voi vi siete messi in coda io ogni due partite faccio entrare o due persone una in base a quelle che ho in coda ovviamente invito baffuto e manuel mettiti in coda come ho fatto baffuto e ti faccio entrare baffuto si è messo in coda ma non devo fare entrare baffuto c'ho ragazzi in coda mettiti in coda anche tu va bene un bacio ma che adesso ho messo la coda se no poi dopo è un caos privata infatti mi tocca ma non lo sommette poi spieghi come si fa sai option è veloce fai option privacy e vai su privato ok aspetta e clicchietri ok perfetto mi fare applica però ok perfetto così l'invito io mi devono di il nome no vinci in coda non ci sei ragazzi scrivete in chat punto esclamativo coda stream elements vi dirà come mettervi in coda perché adesso c'è il bot che vi mette in coda io poi guarderò dalla live chi c'è e qui faccio entrare grazie manu manu poverino non l'avano io fa più sentirmi di un esclamativo coda ragazzi abbiamo messo il bot della coda perché così è più facile per me ricordarmi tutti perché quando scrivete in chat poi passano altre cose a me mi passa capito ma dov'è che sta il puzzle scusami prendete tocchi la live e subito sotto la live c'è tipo una striscietta aspetta modi dico pure quello che c'è scritto dove c'è scritto chat dello scritto dello streaming vicino ci stanno sia le lineette della chat e sia un pezzettino di puzzle si grazie per il forno italian cobra da family dal computer mi hanno detto che basta scendere aspetta nel computer dal computer minute basta scendere in fondo alla chat e ci sta il modo per iscriverci alla coda mi ha detto un ragazzo che l'ha fatto da lì sul pc ecco sta in fondo sotto al video che cosa il pacchetto celebrativo di portano no che cos'è il pacchetto celebrativo di portano calcolatrice dietro che ti comprovo più sì 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 c'è l'ho quello e quindi troppo sì 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 no scenderemo che bella sta di gol ma mio sì sì ci sono io dopo che lo sapevo il cassa qua dentro se te lo scarichi fortnite non si senti guarda che dopo devi entrare su fortnite quindi scaricalo come vuoi domani dovranno fare la stessa cosa quando si giocherà a pubg ma come mai a te non ti piace pubg per mobile il mano bellissimo più giocabile più luminoso fate non lo sento io ma non vanno morto però aspetta aspetta che ci si vai c'è vado nel senso che nella dossi questa è la skin che no ragazza ma c'è qualcuno ma la mano andiamo la mano se ne fosse uno è un conto ciao niente andato dai mortacci tu devi morire ora mai devi morire grande dove sta andata lì dell'ho fatto raga l'ho tutta la tranquillità del mondo fatto raga sì c'è il pompa mio lì io voglio lasciamo sti palloncini e prendo questo e le banne pure proprio coltore dove ad accolo grazie in mano mia non è che sia molto utile bello bello ce l'ho ce l'ho ce l'ho le banne non le prendo però che ce le portiamo via ciao la killer e ti rispondo giusto? infatti mano mi sa che ti conviene 20 volte metterla pure a te a parte che tu mi sa che hai fatto il team no team no però tipo già domani che c'è il contest mi servirà un casino sto robo ma infatti ti conviene perché giustamente noi quando giochiamo con tutti poi dopo un po' non è che ci possiamo ricordare tutti non conto è che sono tre mi ricordo cosa ho mangiato stasera hai capito io per quello l'ho messo perché tante volte poi era un casino entriamo in safe Akami mi ricordo qui a spiagge lo so io non li sopportai guard bravo è l'uomo che deve guidare se lo vedi che sono amici è camillo fermo attente libretto per favore mi raccomando mi raccomando mi tocca a fargli la multa aspetta porta pure il casco come aspetta prendi palloncini mettine tre vabbè ti avrò tu prendi la scelta prendi prendi questa vabbè sali e apri tre palloncini dai 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 perché mi hai fatto apri sti palloncini tre palloncini volo dovevi prima entrare nel quadro però ok a posto ma se c'è scoppia nei palloncini alla fine però lo sai vero ok oddio quanto mi piace sto fucile lascia 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 che lascio sto facendo i palloncini dai 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 ciao tutti oh forge ch theatre oh come si leva sto palloncino, come ho fatto prima, mi sembri il, come ho fatto, non si levano, allora con l3, l'ho fatto con entrambi, non si levano, con un analogico testo, l'ho fatto, l'ho fatto, allora tu devi saltare, eh no, se salto cado, se salto cado, questo è meglio di un aereo, tizi sulla montagna, mamma mia se lo prendi, sceglie, non lo faccio, ahia, vola 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 vola, cosa chiede? oh, veramente non te lo toglie con l3, vuole, eh giuro che vedi con una bugia, oh, dove stava quello? chi è? oh, da dietro, questi, eh? no, aereo, che cos'è? che merda l'aereo che merda oh sei una merda attento, attento, via, via, via l'aereo, attento l'aereo, attento l'aereo, via, 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 via perchè sempre questi poi, perchè sempre questi, a muda, sempre a muda allora, adesso, faccio uscire l'altro ragazzo, faccio entrare cami ah no, aspettavo, questo è toni, ma che c'entra, no? vinci, vinci entra, dai va bene cami ciao, un bacetto ciao caro ah e vinci entra no digli a vinci se mi dice il nome quella del professore eccolo mi sa che è lui si vai e si tanto c'era toni quindi sennò toni non ce l'ha neanche ecco ti vinci si ma non mi riguarda quel nome così che stai a fare ma guarda il guewe davvero ma vedi ragazzo le allucinazioni perchè è infame non te lo dico che cosa toni e dai se gli avrei dato una donna non mi ha detto manca di me che sono altra donna figurati comunque no ha detto ce n'ho undici o dodici non si sa non ve lo dirò mai no che allucinazioni vedo mano con le corna ma no c'è la mia ragazza lasciate stare no talpi metanno del cornuto qua ma che sei morto ragazzi basta basta non mi fate fare nonnesmo hai capito ma tipo come fanno ad aggiungersi alla lista allora scrivono una volta che hanno scritto coda e hanno cliccato vicino ai tre pallini quelli che stanno vicino a guewe devono fare connetti identità e quella è l'unica cosa che devono fare una volta sola dopodichè per mettersi in coda tutte le volte devono schiacciare su join passate la rai raga sì cliccano su join e li mette ok ok figo 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 messo messo sì ma toni non c'è la fortnite ragazzi no no era così esatto ha detto dopo ci sono io no no eh prova a metterti in coda Manu così vedi pure come fanno adesso provo c'ha ragione Gicalone è che già sono sceso prima aspetta ma ho raggiunto eh ma arrivo ma come sei sceso prima di solito non te fa scende e continua a volare chiede è stato bellissimo un'emozione mai provata che miseria io ancora sto a volare guarda che per me tutti i morti tutti i morti e lui ancora stava per aria per me se rimanevo in partita tipo lo andavo a vincere secondo me sì ti saresti riuscito calcola rimanevi tu e l'unico vivo poi però se te beccava che stavi per aria alla fine eh sì vabbè però dettagli almeno secondo arrivavi se non riuscivi a ammazzarlo sto arrivando ragazzi i ragazzoni oh grazie vinci grazie baffuto colpa mia raga scusate so che cazzo sono sceso oddio 54 io ho tolto questo grande sto arrivando so duro eh so duro no io ho levato un'altra i 75 manu porca miseria vabbè raga io no muoio vabbè sicuro porca miseria sì sì beh tanto non c'è bisogno che mi succedi a vinci non non gli vanno più le cuffie non funzionano quel maledetto cioè io ho levato veramente tutto ancora non era morto c'avevo solo quella pistola non sta è andato dietro la casa è andato dietro la casa non so se puoi salire c'ha 25 c'ha 25 eh se non si è curato ecco quello scudato se non si è curato ma io sono stata fortunata che non ce l'avevo scudo primo colpo 54 eccolo mi aspettano sotto le scuole aspetta però non ci aveva annunciato tua madre questo era un po no era vestito di nero quello dai vedi io ho beccato quello scudato eh così era questo era la rip cuffie ma non ci senti vichi e vinci sì che ci senti comunque ecco ho provato ad aggiungermi eh sì sì guarda prova esci tanto ci riesce pure se stai in partita eh eh ecco unable to join jesse join bellissimo eh si si ma dal telefono è velocissima non lo so adesso ci fa c'è di vincente molto lì sì sì invece c'è una buggata ah eccolo vinci allora adesso funzionano che è successo non c'è stato detto non c'è ecco dico meno sì sì ci stai gustare bisogna abitare bella sta cosa mi piace che hai detto? eh niente niente bisogna abitare solo da solo per boostare per per diciamo andare avanti nel turno insomma io voglio giocare prima di quelli che stanno eh devo bittare ah certo per uscire i soldi eh esatto in funzione esatto e in teoria mi sono tolto ok perfetto ottimo figo sta cosa mi piace mi piace mi piace grande giga poi ti offro una cena tutto 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 pom pom dobbiamo? qua sotto qua sotto guarda che ora che mi cantina prima raga dove andiamo? lì adesso raga dove andiamo? qua sotto ma la sala storia di lì non c'è il live praticamente giocavo con tre ragazzi di roma remy legend e neox e praticamente al ricerto ho fatto rica ma dove stiamo andando mi stavano a trollare quindi hanno cominciato a fare andiamo lì e io dove lì lì ma come non sa dove lì mi dicevano in continuazione allora da quel momento è rimasto da andiamo lì basta a caso c'è qualcuno sopra di me sì o meno male che ci sei adesso non più no no l'importante che ha preso l'ultimo questo mio questo mio questo mio tutto mio tutto mio lui c'è un altro tipo un poverdi oh bello allora ci sono anche le bende però facciamo così a caso il di tu le bende vinci bravo vinci se servono raggi l'ho presi a magari c'è lanciarazzi no no dico magari mi servisse chi è che spara sono io arrivo baffuto god no è deciso chi è col cuore anche ora non chi è questo questi raggiaccia noci il ninja diverto via mano lo stai stai vada comunque quello che ho ucciso io non era da solo ciao giuli buonanotte un bacetto visto che si può abitare non lo so ma non allora praticamente se tu ti metti in coda poi esce tu fai join e se tu fai joint esce boost ok tu clicchi boost per saltare diciamo la fila e ti esce quanti per saltare quanta gente almeno così mi sembra diverto ok task master grazie dell'host allora ok puoi scendere sa ok quindi ti chiami sarà certo perché non avevo detto ragazzi non lo so te l'ha detto senti la mano ripetichelo che non ha sentito ho detto praticamente tu ti metti in coda dopo che ti metti in coda e dopo che fai join tu ti esce il tastino boost tu clicchi sul tastino boost e ti esce quanto devi tippare cioè adesso non so ci sono dei pacchetti però boost in teoria è tipo che salti la coda a quanto ho capito bella is che ha messo un bel follo il mio is che task master devi metterti in coda non lo so allora scrivi in chat punto esclamativo coda poi segui le indicazioni di stream elements e ti metti in coda racca boia vanno ammazzato no no sono morto e stavo guardato quella cosa vabbè l'ho visto no guarda dove sta quel maledetto mi ero dimenticata che stava lassù porca miseria grazie per il pollo is che benvenuto nella famiglia perché mi abbrimenti buonasera ui ui is che me la sono messo no 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 task master non ti trovo nella nella lista l'hai fatto join grazie per il follo dante force 01 benvenuto nella family no devi scrivere punto esclamativo coda in chat seguire le istruzioni stream elements che è il bot che arriva ti dice come ti puoi mettere in coda praticamente poi una volta che è fatto questo connetti l'identità quindi consenti a tutte le cose vabbè lì sono cinque minuti basta che connetti l'identità e fai join però mi raccomando segui le istruzioni di stream elements ciao manu io sto fino non lo so che ora ragazzi buonanotte doni un bacetto a mano mano di me is che chiede se puoi leggere whatsapp ok ciao 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 che c'era la taskmaster vero e allora se mi mi aggiunge lui o mirano vince è uscito ciao manuel salve ciao manuel ciao manu manuel visini no chiedevo a taskmaster se mi poteva aggiungere per favore a epic killer mo 93k grande ame grande così ci fai da quarto beh è comoda la coda però si devono abituare pure loro capito non fa solo bisogna farli abituare e si viano piano questo abito a me il tasto busto non appare forse perché sono e ma non vita taskmaster chi ha detto l'amico tuo taskmaster 2007 ita aspetta fermi tutti che faccio un bordello ok x grande x piccola trattino e ma trattino x piccola x grande grazie per il follow zero assoluto benvenuto nella famiglia si chiama non lo aggiungo io lo aggiungo io se no ragazzi eccolo eccolo ma c'è mai inviato a lui in teoria in teoria e lui pratica si lo so però quando dico ciao manu poi c'è manu in live che si saluta da solo non mi chiedete perché quindi non ti chiamato il nome e il cognome no perché manuel visini c'era rimasto male capito manu perché è perché di solito lo chiamo manu però quando dico ciao manu poi dopo 12 ciao manu no 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 raga sono coglione io andate tranquillo allora lo chiamo manuel visini no no dai no certo che mi ricordo di te siamo tutti dei manu lo devo provare ah manu ma che fatto avevi levato il follow per caso perché mi è ritornata mi è arrivata di nuovo l'email ma mia eh no la tu ma che era successo oggi che battuta avevi fatto che non era stata capita eh un po' di battute però stupide e ignoranti e quindi vabbè ma perché lui non ti conosce non lo sa come scherzi esatto minichini bene minichini vedi se riesce riesce a metterti in coda anche tu per favore taskmaster è entrato perché in coda non c'era nessun altro e quindi l'ho fatto entrare però se riuscite mettetevi in coda perché ragazzi vi dovete abituare perché quando siete tanti io non mi riesco a ricordare tutti a memoria ciao gianji gianji mi dice che il cuore c'è quanta gianja c'hai e manu adesso si ma non sto parlando con manuel visini eh aspetta un attimo adesso mi è arrivata di nuovo l'email che dice manuel visini ora dice qui su twitch vabbè sarà un bug non ti preoccupa e quanta gente c'è siamo in quindici il quartiere c'è un bocchio di vetri no no ci sei ci sei come no che vuol dire forse mi è arrivata due volte l'email non lo so mi è ritornato adesso se sentite voci grandi strane aspetta che refresco c'è solo baffuto c'è solo baffuto minichini hai fatto join devi andare sul pezzettino di puzzle mi raccomando ogni volta che dovete mettervi in coda dovete andare lì ma che c'è un lama ok no oh ma come ha fatto questo senza picconarmi scusate alloccarmi no seriamente aspettate un attimo cioè non mi ha colpito manco una volta come ha fatto cioè non ci credo vabbè e si ho fatto tutto allora fammi vedere minichini rifalmi di nuovo perché janji me l'ha anfilato in lista e te non ci sei ciao frax benvenuto benvenuto clicca sul cuoricino in alto a destra inizia a far parte della family inizia a far parte della family poi dopo di che scrivi punto esclamativo coda e segui le istruzioni di stream elements per inserirti quando io vi trovo all'interno della coda ogni due partite cambio ragazzi stasera c'ho due posti quindi alterno due ragazzi ogni volta se ci sono grazie per il follow Nicola Ultimato e benvenuta nella family mi raccomando mi raccomando mi raccomando però Emma è appena entrato quindi faccio entrare janji perché Emma è appena entrato ragazzi baffuto faccio il cambio faccio la partita letteralmente ma perché non hai scelpito la partita no ora torna ora torna baffuto faccio entrare un altro ragazzo che è in lista va bene ok ok dai un bacetto mi raccomando se vuoi rigiocare più tardi rimettiti in lista un bacio sì ciao ciao un bacio eccolo qui onolito tocchi la live se sei da cellulare e clicchi sul cuoricino che si trova in alto a destra quando il cuoricino il nome però non si sa chi risponde frax sto parlando con te basta che tocchi il cuoricino in alto a destra e quando il cuoricino è colorato vuol dire che sei un membro della family allora devo scusate devo aggiungere Gianji perché è quello che ho dopo in lista Gigi no Gigi ciao benvenuto clicca sul cuoricino anche tu in alto a destra e inizia a far parte della family Manu sei ritornato? Piappina dimmi comunque nella partita dove c'era Manu lì dopo la skin del biscotto si e stava ed era morto ed aveva chillato uno eh stavo nella parte innevata non so se si di quella parte si io ero io ero nell'ascolto di quella la chiacchierata bravo bravo poi gliel'hai detto a Manu ma dove è Gianji scusate l'ho visto morire è partito il momento sed perché pensavo che tu la vinceva poi è venuto da dire l'ho ucciso vedo ora l'ho connetta l'identità sicuramente allora aspetta Vinichini lo sai cosa devi fare? tu hai cliccato sul pezzetto di puzzle poi vicino a quei way ci sono tre puntini li devi cliccare e connettere l'identità se non lo fai non ti mette in lista quindi quello lo devi fare una volta sola poi dopo tutte le volte basta che vai su join però la prima volta devi per forza fare questa cosa fallo adesso vediamo se ti riesco ad inserire vediamo se riesci così a metterti in coda Manu Manu ci sto scusate ma l'hai capito che Emma Emma stava nella nella squad di quello lì che t'ha killato nella partita dove sei morto sulla neve ah bravo Emma eh bravo no spero non in quello che t'ha killato tu avevi killato uno io sto nella squadra di quello che tu avevi killato ah ecco allora gli sta bene ok grazie per il follow Frax e benvenuto nella family cioè io ho detto ma quello è un mio amico streamer io adoro questo streamer ma c'è qualcuno che non mi calcola Fizz come non ti calcolo solo che tu se giocano da vicino vuoi giocare mettili in colla pure tu però poi con che capiti capiti cioè nel senso se capiti da vicino non posso buttare fuori la gente capito Fizz si arrabbia troppo facilmente con sto gioco Manu eh e a me che manca poco labbi steppie come muoio Boris hi hi Boris follow me follow me follow me vedi ora aspetta che faccio il refresh perché non inserisce io la mano scriviglielo tu come deve fare lì che sei un buon eratore chi è che mi chiama ciao ciao cianci sei jolly sei jolly sette giorni anche a te giorni yes papa eating sugar papa schifo che c'è ma che hai sentito Manu che non ho capito un cazzo ma che hai sentito Manu ma che no ah ok ciao è da un anno che ti aspettavo Marco Togni con firme sto morendo sto morendo sto morendo buonanotte ische bacione ma io ti giuro che non mi cura solamente per tatti questo scelto c'è gente lo sappiamo smr time no non è smr perché così non ci sentono che cazzo di problemi per voi insieme tu che è meglio io vengo a scialpare farai un testo ma questa che è o ma c'è la troi ma se non la uccide manuelino a questa qua io me ne vado si l'ha già uccisa l'ha uccisa l'ha uccisa manuelito parla dice manuel salvini i salvini e visini scusate ragazzi ah no salvini ruspa salvini ruspa si problemi no appena girati e salva salva grazie come salvini mi sto sbagliata io non è salvini a sto punto mi chiami manuel renzi fai prima ma avete capito perché non lo chiamo mai per cognome perché se no io mi sbaglio ma no scusa io ti chiamo sempre manu ino cazzo ma ciao ino cazzo ma ino cazzo ma ah bella perché ho spiegato 20 di materiale ino cazzo ma cazzo ma qualcuno ci può bene venite tutte vostre io ciò vuoi vi trattare bene con i medici qui per me no e' no no ecco capito 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 ha detto di andare in safe venite vieni ma perchè pensavo che angiost era un medici qua porta vieni eh beh portalo fai quella cosa così ho lasciato uno scudino dimmi poi vieni che gianji ha l'aereo così andiamo in safe che è gianji poi gianji gillo che è è gianji? io lo chiamo così in realtà sì che c'è non è angio gianji è più carino giusto oddio che è questo rumore no cosa oddio cos'è successo l'ho visto la morte in faccia mi sono visto la morte in faccia mi sono visto la morte in faccia che stanno se volete il tuo però laggiù, lì si che te fermi madonna c'ho paura io no dai no mamma c'ho paura ci sono i mostri accendi la luce ok mo mando l'orco accenderti la luce oh, madonna no l'hoca oh dio ma no l'hoca 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 no, maledetti roba si in tre attento, attenti, attenti, attenti attenti eh? chi? eh ma ma non ce la vuoi fare, ce la vuoi fare, ce la vuoi fare io ho noccato uno, vai ciao jenny, eccolo grazie per il follow fratix e benvenuto nella family vieni serve pc eh lo so, che vedevo fare no posso suonare un attimo la canzone con il flauto che ci sta benissimo in questo momento? io la posso suonare la posso suonare? la posso suonare? la posso suonare? vai Emma vai vai eh tu ci sei ma... minichini non c'è manco phase manco phase allora a parte che non c'è a parte che non c'è nessuno da bc allora ciao joy lunga la coda no ragazzi allora dovete scrivere punto esclamativo coda e seguire le indicazioni di stream elements io fino a che non vi trovo in coda non vi invito perché dovete imparare a mettervi in coda perché quando siete tanti io non ce la faccio a ricordarvi tutti ecco oh comunque phase non sta giocando nessuno da pc Emma sta giocando da xbox credo giusto? no da nintendo switch ancora peggio mamma mia sta tosse di merda si phase tutti tutti quanti ci dovete riuscire ragazzi perché sennò per me diventa un problema quando siete tanti tanti che volete giocare non posso imparci questa è la mia cosa avete sentito alla mia cosa mi dice phase? ok posso? non ti ho tradito phase che dovete fare questa cosa tutti quanti per una comodità di tutti si vabbè si vabbè volevi parlare ma ci credo i romani leggendo ragazzi non vi preoccupate per mettere un pochettino di allegria alla alla Gino qua alla live alla Gino eh sì alla Gino si è sentito bene chi vuole sentire delle imitazioni fai scegliere alla chat le imitazioni che devo fare no no è Emma dai te la dico io dai il tuo pezzo è forte io lo so vai Silvio Berlusconi no no Silvio Berlusconi no perché già ne è distrutto coso salvinilla no no dai 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 fai Berlusca fai Berlusca fai Berlusca fai 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 f tanto tanto sul tetto sul tetto sul tetto a terra mi sono non è a terra tirato bomba poema e l'attimo però cosa c'è gente c'era che ho fatto io ho levato una marea di vita ancora o e ma è buono giambi deco ufficiale volete stoppare le mani o oggi giù ah già però sì normale ciao principe tv benvenuto wow che caso il cuore c'è nella prima parte nella prima talpina ma è prima le donne grazie samu benvenuto l'olopauti e anche a samuel zanna grazie cliccate sul cuoricino in alto a destra e inizierà a far parte della family oddio mio scusate mi sono sbagliata principe di vita esce questo cuoricino ma l'hai dato tu mangiato questo è stato mi lasciato qua ma lo amore siamo di nuovo con il smr di marco toghi ma che sta da dire vuoi? chi è che mi spara? io perché non lo so non lo so giovi bravo che ti sei messo in lista scusami ma perché ti sei chiamata talpina? c'è una domanda così a caso perché no no ci vedo benissimo solo che quando ero piccola io ho un fratello e un cugino più grande volevo sempre giocare con loro stavo sempre in mezzo e mio fratello un giorno si è stufato ha detto mamma mia sei fastidiosa come una palpa e da quel giorno mi sono chiamata talpina questa è la verità da un insulto si è passato un nome esatto grazie principe tv per il follow e grazie anche a samuel zanna sempre per il follow benvenuti nella family ragazzi non ci vedo dica cosa è successo giovi dice se fa l'illimitazione del brasiliano che si vede il brasiliano? è che non lo so tipo ho sempre voluto una famiglia così grande vinci non lasciare i tuoi compagni da soli cattiva dobbiamo andare là infatti da giangi ciao flex ragazzi mettetevi in coda scrivete punto esclamativo coda e seguite le indicazioni di stream elements per inserirvi mandare che io dopo posso guardare lì ed aggiungere ragazzi mi raccomando poi non andate via dalla live perché io quando devo aggiungere se poi non mi rispondete per un po' di volte ovviamente vado avanti con la coda per forza mica posso stare un'ora lì ferma ma caro manuelito dimmi però vorremmo andare da ecco grazie per il follo lollo pauti e benvenuto alla famiglia porca principe tv perché non attivi anche la campanellina delle notifiche così mi trovi in live tutti i giorni attenzione basta chiedere a rega oddio che craniata lo faccio qua ciao a tutti ciao tribù tribù dei zulu ciao tribù dei zulu sì tribù dei zulu a me come io no è a me come io mio follower tribù ciao tribù bello io faccio che babbi io faccio che babbi 7 euri con cipolla piccanto e salsa bianca ciao revi ma chi no e la cosa bella è che si chiamano tutti tv ragazzi mi raccomando visto che ci siete ragazzi miei ragazzoni intendo no andate a mettere un bel cuoricino anche a manuelito tv oh grazie bella approfitto per dire che vendo che babbi 10 euro con salsa piccante salsa bianca e salsa rosa e anche 3 euro e anche 3 euro e al revix dimmi ciao real revix bello dimmi e ma hai delle belle hai delle belle grandi ci sono belle qui qui belle raga qualcuno per colpi pompa per favore colpi pompa bello io avere 5 euro l'uno bello si revi c'è il cuore perché sei abbonato tutti gli abbonati hanno il cuoricino vicino vicino perché con la famiglia alla femminile cuoricini con le dita no eh però ci vogliono le diete su cuoricino se no non è cuoricino cuoricino con questa voce amore mio mi fai fare una notte svegliare lollo pauti e veramente mi piace la mia voce dicendo che la voce di dita alpina è un kebab giù bello si e 10 euro kebab e solo per te facciamo 15 vero qui ero è un progetto piaciere io credo che sei mi amico 20milla dai giù giù è un anno inito 10 euro bello perché c'è dentro salsa bianca fatta a mano bello capisciamè significa in che babbara giga guarda che vengono le spacco bottiglia ma famiglia 3 secondi guarda bello che conto a 1 3 cosa che cosa ci sta dopo l'uno che 40.000 mettere voi vediamo un caso da possiamo mettere come molto i voli che un pollo non mettere un kebab come io ho fatto la moneta e sono i paperotti principe tv instagram e anche youtube sempre in alpina channel io non c'è male male nel senso nebbiamo conoscono il lito mai simpatico popolo 4 sento grazie carico fermo fa un per mano tu io l'ho detto mille volte andate a mettere un bel cuoricino a mano e dito che fa live pure lui faccio faccio live ma faccio che babb che babb pizza che babb pizza co co patatine che babb tutto quello che vuole ma cos'è quella piramide che c'è là sopra mi sento a casa una carta luca ninja e donatello raffaello e cogliongendo cosa trovano non aspetta mai trovato la verginità che non so so bianca da botta neri e me la fa sostenere io voglio che babbino salsa ragazzi se volete salsa rosa dovete sapere che la salsa rosa è fatta dalla cacchina di arale finalmente a salsa puoi aprirti una bancarella ciao a tutti io ragazzi bella bella ha lanciato visto in dire ma bene le cose normali che ma che è successo e vabbè ci vedono ci sento che babbara da meno a cipolla no a cipolla io non metto cipolla perché cipolla formale salute io voglio che bambino salsa che babbino salsa bello sono 10 euro e 50 con piedi con piedi che cosa guarda con i piedi per dare qualcosa che cosa tanto quanto scusami hai trovato i matti giusti stasera si scuse ieri partidina con manu muove forza siamo divertiti vorrei un euro di kebabo no un euro bello che cosa lo regali kebabo no no si regala kebabo mamma non c'è guarda che te do ma ci dai un nome a sta roba se mi dai kebabo bella io so' contento bella questo salto con kebabo si perchè io non lo so usare ma la verità kebabo ha molto formative quanto vai in stream? quando vai in stream? io tutti i giorni Samu lo sai tutti tutti i giorni o almeno ci provo ho chiesto rumeno che c'è dentro chi è che parla rumeno? te giuro mi ha fatto morire ma guarda dove fa ma chi è che sa parlare rumeno? e io come che parla rumeno? è manolito adoro che cosa c'è qui? un hard drop bello? magari contiene che babi buono bello buono bello ma che contiene che babi? un piedutto male apro apro che babi se non riesco a mettermi in coda secco ciao secco benvenuto allora devi metterti in coda secco c'è caraffa caraffa di kebabo per te qui ma chi? ah no c'è affatto e bella Sara e c'è caraffa di kebabo qui qui c'è dentro salsa piccante sta attento non bere non bere tanto così veloce piani 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 sapete i tuoi piani in là c'è una spartitura per un piano e come si chiama Manuelito? mi chiamo Manuelito bello io sto Manuelito Manuelito Timbi vuoi da ora che ti ho scoperto? power e compagnia bella vuole stare là grande regalo non sapete che soddisfazione mi date o grande e bello io sono Mars però versione che babarvelo e marocchino marocchino che hai detto ci siamo ditemi ci stiamo ci stiamo si tieni però io ho ancora un po' io l'ho preso per non lasciarlo dai seri allora a sud i belli no io voglio che babbero capito vieni a sud che facciamo nemici poi prendiamo che babbi poi noi nemmeno sono già a sud cioè sono napoletano noi sono napoletano è bello è bello io so più sud io so più sud di te bello ehm non so se ce l'è a me con me no no in marocco bello tu mica capito guarda me la ragazza ancora più sud va bene va bene mi piace più più coglione che il meridione più coglione che il meridione cazzo di problemi c'ho tua madre quella lezza stronti niente niente questa parte di marcia io non riesco a mettermi in coda flash ci sei in coda ci sei ci sei e la madonna ragazza di soggettivi a quella aveva un po ragazzo tra gente ci che tocca aspetta aspetta bro dai seri seri un attimo no no maledetto gatto domani l'uva attivano ora non lo pauti di a quello che fa finta di essere anche babbaro che sta rovinando la stream qui dicono che non devi fa finta di essere anche babbaro perchè dicono che rovini la stream e vabbè capita ragazzi dai ma non sta scherzando no dai porca puttani voglio un kebab andiamocelo a comprare è vero regà buono kebab ma dov'è join allora secco adesso te lo faccio spiegare bene dal moderatore che te lo scrive qui in chat dove trovi join così te lo scrive per bene allora allora devo farti uscire perchè devo fare entrare joy e levan va bene ciao ci vediamo ci vediamo ma bene alla prossima ciao 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 ok aggiungi quante ne abbiamo fatte di partite noi una vero Ok perfetto Allora faccio entrare Joy Leven E mi dice il nome perché non me lo ricordo più Madonna Manu c'è una memoria pessima C'è una memoria Perché Joy ti sei arrivato dalla coda? Mi intenziono Chi? Posso giocare più Va bene Joy Ciao Alex Cervi Cioè a Joy non può giocare più No Scusate ma mi è mandato via internet qui Quindi fammelo vedere Grazie per il follow official rebel Come si dice? Rebel? Rebel Benvenuto nella family Allora visto che non c'è Joy Ciao Legend Tesoro ti devi mettere in coda come tutti gli altri Perché se no poi dopo pure gli altri non lo fanno L'ho detto pure a Faze Dovete cliccare sul pezzetto di puzzle Cliccate sulla live Sotto ci sta una striscetta Tutto a destra ho trovato un pezzetto di puzzle Lo cliccate Perfetto Perfetto Fa partire le istruzioni Il moderatore adesso in chat Io ragazzi sto senza internet Mandato via internet dal telefono Quindi non Non riesco a vedere Chi c'è in coda? No adesso è ritornato Fammi vedere chi c'è in coda Perché io non ce li ho più Ok ecco Ora la c'ho Flex E dopo deve entrare secco al posto di Ano e di Janji Come vuoi già In caso ti rimetti in coda Va bene dai Li faccio entrare tutte e due così Un bacetto Grazie Allora Però mi servono Possiamo fare all'italiana Sono raccomandato Faiz Perché scusa non puoi connetterti da Twitch Faiz Allora faccio entrare Flex e secco Pure perché non so se uno dei due gioca da PC Flex io non mi ricordo il nome Se ci stanno Se no ti faccio entrare Ci stanno tutti eh Ti vediamo un'altra Eh ma non so il nome Ok Flex mi dici il nome per favore Non me lo ricordo Ok Tutto minuscolo Ma sei in live Manu No no io ero andato in live solo per Vedere una cosa Tipo roba di due minuti Ah E tra l'altro E tra l'altro un genio della lampada è entrato e insultato Cioè in due minuti di live è entrato e insultato Perché non me lo fa inviare Zombrez Ah eccolo Ah eccolo perché non è quello Ok 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 aspetta Allora è Che bello comunque quando entrano insultano E vabbè E vabbè E vabbè è un altro ragazzo che si è messo in fila Flex Fammi legge il nome Fermo Zombrex C'è l'underscore Fermo Fermo non leggo il nome Che cosa No non qua Nella sua era entrato un attimino in live Manu Zombrex Zombrex 97 No 97 Fai Z devo far prima in tre ragazzi che c'ho in coda Ma dopo se non c'è nessun altro ti faccio entrare Se non c'è nessun altro in coda ti faccio entrare L'ha inviata La richiesta Eh Z maiuscola Sorry Eh Cari sei L'ha inviata Me l'ha inviata comunque Flex Quindi Ah certo Psst Eh Fatti aggiungere tu Lo so ma non mi aggiungono Gliel'ho detto l'altra volta E allora non giocano Fai Z Se aspetti Dopogiochi Eh Se non ti puoi connettere a Twitch Non ti puoi mettere in coda Tesoro mio Io che ne so Eh E poi se sei già connesso a Twitch Stai in live Mi stai a scrivere in chat Che non ti puoi connettere a Twitch Cioè stai in live È da lì È dalla chat Che devi fare Altrimenti In coda Non è difficile Ragazzi Io lo so che vi scoccia Però vedo che l'abituato Perché io non è Posso impazzire No ragazzi C'ho Secco Ma Secco è uno dei tuoi? Eh Manu? Secco? Sì Vabbè non credo Non lo so No Boh Secco underscore F No perché Sennò lo invitavi tu Perché non mi ha lasciato il nome No Rosica Perché lui ha detto Che deve entrare Quando decide che deve entrare Deve entrare Non l'accetto L'invito al gruppo Faze Mi dispiace Ci stanno ragazzi Prima di te Che sono messi in coda Quindi si sono impegnati Per mettersi in coda E mi sembra giusto Farli giocare Visto che sono comunque impegnati Come lo fanno loro Dovresti farlo tu Ok perfetto Allora Ti dovrei trovare qui Eccolo Nell'attesa Chi vuole che babbi Sì 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 Ok Va bene secco Non è per questo Non posso farlo Che cosa non puoi fare Metterti in coda Sei già in chat Non costa niente Cliccare su un pezzetto Di puzzle E entra No non può commettere l'identità Ah e perché Ecco qua Vabbè ok Non so come fartelo Capì Che non posso Se potevo Mettevo un nome Che dicevo io Ma poi non può Cambia Non ho capito Sì Ma metti un nome a casa Metti Faze Il bello Ma perché deve cambiare il nome Non ho capito Che succede Vabbè Allora secco ha detto Che arriva Che arriva Tardi Quindi lui non vediamo Dai Secco non c'è In coda Dopo secco Non c'era nessuno Non vediamo Faze Così fa una partita Poi quando entra qualcun altro E no Ed ora si vede Che perde l'account Play Vabbè Non l'ho capito Perché perde l'account Sto nome Non l'ho messo Manco io Ah vabbè L'anno Sta dopo secco Sì vabbè Tanto È secco Tanto ha detto Che non può avvenire Adesso Quindi Tra 5 minuti Sì ha detto Tra 5 minuti Quindi facciamo La partita Poi entra dopo Il tempo Di che Bobby Arriva Sì fai pure L'applauso Scocciato Mandami un bacetto Perché ti ho fatto entrare Cammina Manda un cuoricino Ma chi è Faze? Sì è Faze È Faze Ma adesso Perché ti ho fatto entrare Dovresti uscire la voce Attenzione Ecco la sculetta Attenzione Ecco principe Ecco il bacetto Pure due Oggi ho mangiato Un manu kebab Adesso sto mangiando Una pizza e kebab Prima che divento Come ciccio gamer Inizio la dieta Ma che me frega Raga Adesso esce la voce Max Power Hai mai simulato Un orgasmo? No Perché dovrei Io sì Sì? Adesso Oh Però non si capisce che ha finto Oh attenzione Chi è? È Aiz È Aiz Sei Faze Quando mai? Piacere Aiz Piacere bello Tappo 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 Ciao Faze Eh finchè non sento la voce Mi sei mancato Proprio per niente caro Cioè Dai Faze Esci sta voce Forza che T'ho fatto pure entrare T'ho fatto pure entrare Quindi dammi il macetto Subito E tira fuori la voce Escilo 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 Il vocione Escilo No Non gliedi escilo Perché quello è capace Che esce un'altra cosa Ma no Ma si dai Attiri un po' di gente In live Che Faze Che Faze è arrivato Con una live fortnite A smrr Smrr Si a smrr Smrr Raga facciamo smrr Va bene Ok Vai A posto Facciamo a smrr Cazzo Cazzo Che sei un po' di gente Che ha fatto Faze Esci la voce Perché Esci l'unico No 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 Max Ragazzi Non vi offendete Per favore Soprattutto Non offendete Le rispettive madri Perché non c'entrano niente Grazie Solo i nemici Che vi uccidono Esatto Come fa il manu Quello si può fare E' una mamma unica E' quando mi uccidono Esatto E la madonna due trampolini E' una mamma due trampolini La mamma del trampolino La mamma di trampolini No Però tu sei una brutta persona Sappilo eh Faze Tu sei molto una brutta persona Che ha fatto? E' una brutta persona Che ti ha rubato no 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 e la madonna allora basta ti voglio bene inutile che ti baghi però non te lo esco il pene se ti baghi mi dispiace cosa lo stai cercando non c'è non c'è non c'è guarda se vuoi ho una palla rispondeva sopra peccato se no io rispondevo io che erano finte oddio ho preso a calcio un pallone bellissimo vai ritiramelo oddio 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 lo prendo lo prendo non mi la vado no sei cattivo ciao basta me ne vado cos'è una chat di incontri ciao grazie che è qui il raduno è qui che si mangia i kebab no 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 adesso l'amico torna è un attimo è andato a comprare il pomodoro l'aveva finito va bene ciao rosario però se volete intanto giochiamo a palla sono finte deve essere cantato se no comunque no non sono finte sono finte solo se chiedete di uscirle perché se mi dite escile io dico sono finte sono due aranci ma in realtà non è così è vero ragazzi che ha tirato fuori i soldi chi vuole e la peppa la peppina che si sveglia la mattina e qua ci ci sono tre tre cosi ci sono un'attività troppo lontana allora queste costruzioni brutte persone che non siete altri ci sono tre pozze dentro al benzinaio chi prende le cose vince ah ok niente allora mi dici niente dovevi finirlo a nevarla raga ci stanno attaccando meglio non avere debiti io mi si attacca questa brutta persona che adesso è morta non è vero che è morta comunque ora si ok ma ne ha tirato un altro con l'aereo però ok 50 li ho tolto con lo stronzo per l'altro la arriva a caso per l'uomo no col pompa non altro ma fu do no ancora no 15 da pina di propongo una sfida dipende che sfida principe ciao e questo ma cacca tu cazzo però grazie ice la tua madre o raga non ce la faccio più eh e vabbè no dai mi sono cioè dai mi sono tirato ok volevo vedere com'è la situazione morto attenzione mannaggia tv grande ma non grande mannaggia tv grazie vero per il raid no no è un raid grazie missione raida cazzo siamo su destini qui c'ho due mini shield benvenuto litte plum metti un cuore generato a destra e inizia a fare parte della famiglia axi lax e mi buona sera ciao anche anche a orso no 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 il cappero che vado la miseria mi ha incastrata mannaggia a me vengono in pace cucciola tranquilla perché bisogna fare una guerra guarda che c'è face che è cattivo a senti che vocione che ha ciao tanda ciao billy tutti i punti interrogativi oh che te spari che voi cos'è quel simbolino cos'è aspetta cos'è fa vedere cos'è un no è legno assi e legno così se contento va bene ok ciao sto sto imparando a comunicare con feizz è difficile ciao capo capone bello che sei capo a che ora a che ora staccate ma di so e non prima dei due ragazzi perché iniziato tardi gabbo ciao bici c'è qualcuno che scorreggia davanti a noi e raga davanti a noi e ci hanno visto so cattivi questi so cattivi infatti morirò ci fai tu questo vero perché io credo questo rega chiuso una cosa vedete che ma c'è un trampolino ok lui è già andato andiamo che c'è un attimo dove cazzo non voglio vedere sto gioco da dei cerebrali con una delle orecchie azzurre che spara polmoggi e scorreggia e c'è ragione pure te ti piace di più pubg dato lì non ho le orecchie azzurre te lo giuro qua sono infatti qui sono nabba pure lì da playstation 4 da mobile un po meno nabba vediamo vediamo di quad qui così chi sale con me vengo io manù alpina preferisci che tirano 15 euro che ti porto fuori a cena ovviamente dentro la casetta raga c'è un cordo dentro alla casetta pigliatelo allora vai c'è un lancio ciao e gioco giocab ben divico il cuoricino in alto a destra anzi no grazie per il follo scusate ragazzi ma guardo la chat e guardo il gioco in continuazione mi perdonatemi se mi sbaglio tra dirvi di darvi benvenuto e ringraziarvi grazie per il follo grazie per il follo tatzu maruo 86 grazie mille benvenuto nella fei se fidanzata sì principe tv appunto hanno chiesto prima se sono vere o finte sono finte sulla convenienza però sono veri in realtà cazzo fanno essere già la sua parliamo in avere una camomilla no sta ora prendendo le piale o c'è nero c'è nero spara gli spari che non è nata l'attenta sono scesi e non so che sono scesi ma me ne sarà bloccato tipo spider man sto scemo ma quando sarebbe meglio un dizionario e cosa bella bro tu vai a fare in culo un po bella mi sarà bloccato il giro su io grande c'è mi sarà chiuso bloccato tipo spider man sopra la motoretta che ne so se per mano di questa sta arriva gente attenta pazienza moriremo grande la sta gente brutta andare dall'amore mio dove sei chi è l'amore tuo face face no no dietro dietro chi è chiaro questo verso guarda manco che cento mila però vabbè se vuoi mille euro li accetto comunque vabbè rpg dove è qui accanto a me città c'è lo sta quest'altro maledetto col pompa maledetto la serie nella stessa stanza no stiamo parlando tramite la chat del gioco il sushi vicino casa è chiuso allora mi allora mi mangio un pesce rosso dell'acquario dai però dai billy esci questo cuoricino e poi mangiamo insieme il pesce rosso dell'acquario non è troppo piccolo pesce rosso dell'acquario non va bene magari prendiamo un orato perché ora un gallo con un cappellino dietro la schiena ma perché il mondo è fatto così male ok ok io vi saluto è stato un piacere ragazzi va bene è stato un piacere per me ice buona serata buona serata da dove fai le live dal salotto ciao di casa ciao ice ciao ciao buona notte io ho conosciuto uno streamer che faceva le live dal bagno no dallo studio cioè da dove lavorava praticamente era sempre al lavoro guarda salto al ginocchio raga cioè io ho i dolori dei pecchi e te scusate cioè dallo studio così lui stava allo studio e faceva le live ma che grande allora che altro c'era dopo secco che voleva giocare nessuno ah lo sai chi doveva giocare i minichini se c'è il mio bikini ma che è il mio bikini minichini tu vuoi il pesce spada? no in realtà no il pesce spada non mi piace di bel minichini che fai? entri? gioca a fortnite c'è scritto quindi mi sa che non c'è allora vediamo un po' Tocca a me No 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 Fabulous le faccio dalla Playstation 4 Principi TV Allora aggiungi Killermall 93 E entra in lobby Entro magari il 27 di dicembre Anzi entro il 31 Perché poi io il 31 sera Devo andare a casa Al mare con mio fratello Quindi per favore Che fai a Capodanno Manu? Capodanno mi sa che sono fuori Con la domanda Sono online Bravo Io a Capodanno ho pensato di fare live dal cellulare Sennò mi sento Tipo quella mezzanotte Esatto Sennò mi sento Farò anch'io il countdown Una mezzanotte Tanto non me cagherà nessuno Però vabbè ci sto Possono dare la Playstation 4? Certo che possono Cioè in Twitch è uguale per tutti Anche se streamo dalla play Tocca a Principe Ok Sta entrando Principe Perfetto Macchi No Minichini Guardate mi deve entrare Principe Ragazzi mettetevi in coda Pensavo che non c'era Principe Invece c'è Vi ho lasciato in buona compagnia Non stanno Grande Manu Ma per fare stream dalla play Clicchi il tasto share E fai partire la trasmissione Sì esattamente Faccio esattamente quello L'ho collegato a Twitch E faccio partire la trasmissione Ma tipo Talpi mi posso mettere in lista Per un mio amico? Mi metto io in lista Quando tocca a me Entra sto mio amico? Sì che puoi Ma perché alla fine hai preso dalla coda? No non t'ho preso dalla coda Mini T'avevo preso perché non c'era nessuno Poi ho visto che lo rispondevi Ho detto a Principe di entrare Poi è stato invitato Però non mi rispondo mai accettato E quindi t'ho invitato due volte Ho detto a Principe di entrare Quindi dopo ti faccio entrare Però dopo di te Ci sta un amico di Manu Io ho le cuffie Non mi sento Fabulous sto streamando con la flycam Dove sto Principe? D.P. Principe Va bene A dopo Bella Bella lì Ciao Principe Ciao Ma sei Sei tu? Io? Eh No spero non ho capito bro Sei mi dito? No 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 Sì io sono Eh D.P. Principe Yeah E il Principe Ovvio Ma mi metti il biscottetto Ho letto Faith Ho letto La simpatica è divertente Intrattione Poi c'è l'amico di lei napoletano Che fa ridere Chi è l'amico suo napoletano? Eh dipende Allora mi devo concentrare ragazzi Sarà dura Dipende dipende Uno dei ragazzoni della family Che di solito entra Parla di Rocky Parla Ho capito Manu Parla di un ragazzo Che gioca spesso con me Che si chiama Rocky Balboa No Che balboa Molto meglio di balboa Esatto Dov'è l'amore mio? Eccolo qua Eccolo qua sotto Amore tuo Manu No Non ci voglio Grazie per il follo Borgia Benvenuti Sì a tilt Raga Oh mio dio Attenzione Buonanotte Sto partito durerà Almeno della prima volta Di Zanna Semm 97 Buonanotte Baffuto Poi con me Capirai E non so Se hai notato Che sono un po' NABBA Prince Non parla più Mi sa che non l'aveva notato Che era NABBA Porca miseria No Voglio con te Non voglio lasciarti da sola No Cazzo Ti voglio lasciare da sola A dire Ce n'è sopra Uno che spamma con la torretta Eh vai Ha trovato uno sniper No Maledetti Sparategli che c'ha poca vita Quello con la torretta Però La fa il macello Quello sopra Uccidetelo Tacci tua Chi è Abbaffanculo Tua madre Pocco Dai scendi Ecco E' sceso No Ciao E vai a cagare Sulla pianta d'ortiche Devi cagare E vabbè Buona Che cazzo Non è stata una buona Skyrim 6 O skimstain Non so se ho detto bene il tuo nome Ciao Benvenuto E clicca sul cuoricino in alto a destra Per far parte della family Allora Tribù del Zulu Ogni tanto c'è già che a PUBG Domani sera faccio la live per mobile Perché è uscita Esce la mappa nuova Stanotte a Luna Ragazzi il TED non è che è stata proprio una buona idea Un follower Ricambio Va bene Ora arrivo Facciamo un'altra e poi faccio entrare i miei miei chini Il tuo amico da dove gioca Manu? Computer o play? Play 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 pure lui Ok Ah faccio entrare i miei miei chini Facciamo due partiti con lui E poi dopo facciamo entrare il tuo amico Così Faiza è contento che gioca solo con ragazzi della play Manu sta cercando i miei money per caso Cerco donazioni ragazzi Devo comprare la droca Nooo Sto cose brutte Io voglio saltare in pace nella mia vita Adesso vi spacco queste gomme Così almeno non giocate più Ok? Ecco Grazie per il follow Try and are there Non lo so te l'ho detto bene Ragazzi ho una pronuncia pessima Soprattutto questi nomi messi così Comunque Grazie mille e benvenuto nella family Sì c'ho una pronuncia veramente E vediamo Cioè calcola che è un mese e mezzo che faccio stream Ieri per la prima volta sono riuscita di bene un nome Uno Un mese e mezzo hai fatto 600 follower Sì Sti chazzi Mi hanno fatto un quarto di quelli che hai fatto tu Ah ma c'è il canale Prince Sì Bene allora vengo a vedere Grazie Vedi che tu sei una brutta persona però Try and are there Sì che puoi Certo che puoi Però adesso devo Dai ragazzi io non c'ho manco un'arma Io ho trovato un vampa Dove sei Manu? Non c'è il nostro cado Ti sto sciacallando tutto voglio Aspetta No cazzo non era questo Eh vabbè c'ho la play pack Oh si è bugato tutto Uè porca miseria Aereo Avete cure in qualche misura Raga ma c'è un cespuglio C'è un cespuglio C'è un cespuglio sopra quell'aereo Mi è vergognoso questo Pure io Ieri ho fatto il cespuglio Sull'aereo Proprio palloncini attaccati Avresti tutto infuocato fra Lo so Dove è sto cane Adesso non è 21 Oh La muerte de mamma Cos'è C'era un cespuglio che boh Camminava Si 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 Raga io sono in cerca assoluta di bende La ricerca disperata e Ma vai a fammoc Ci stanno lì? No Tuo padre Aia No è la madre Ah dici che la mamma E la madonna No dai Già c'ho 10 di vita Se mi spari poi Siamo vivi e te No Oddio Me l'hanno portata via Sei da solo Volevo salva Faze Sei da solo No Non sono riuscito a salvarti Prova a salvare Manu Prova a salvare Manu Che forse sei in due Ma Manu non c'è la tua voce Sarebbe tutto inutile Ah ok Adesso si Ciao bello Ciao bello Bello però io sono un po' lontano da te Bello E qui casino Ah ti no fa fumo Capito va bene Un bravo baffuto Sono bello Raga non ho colpi medi Devi scrivere in chat Ponte esclamativo coda E stream elements Ti dice quello che devi fare Per poterti mettere in coda Così poi mi affari Sotto a Manuelito TV Io adesso devo fare entrare un altro ragazzo Che non può collegare Il canale Twitch Poi dopo viene un amico di mano che si è messo in coda Manu e dito al posto suo E poi Il trigo Deve venire un ictus Adesso Puzzi hanno cercato di fare Puzzi hanno cercato di fare Mamma mia Devono squagliarlo nell'acido a questo Bravo Mi raccomando Connetti l'identità Perché altrimenti non ti fa mettere in coda E poi dimmi quando hai fatto che controllo Se ci sei E' una mappa nuova E' una mappa nuova Io ti odio Profondamente ti odio Ora Sto odiando il moderatore Manu e dito Sto provando Big Candy Capito Manu Cioè sta provando Big Candy questo Tutti quelli che vengono da PC Uno forte esiste Uno solo Chiedo Chi è Faze 2000 King? Faze E chi è? Ma non vieni da PC Prince O Cypri? No io gioco da PS Però se vuoi sfidare uno contro uno Sul parco giochi ci sono No problem Attenzione Parte il di Sì No problem Cioè se vuole che gli faccia disinstallare il gioco C'è due secondi Faze ti trovi sempre le sfide o? Faze ti metto in saccoccia bro Facciamo così Se vinci tu io ti shoppo tutto il negozio Jedi Aia Porca miseria Se vinco io però me lo shoppi tutto tu Madonna mia Guarda questo Come va bene ha scritto Va bene hai detto che ti ama Ma aggiungimi Non ho visto E ma Devi metterti in coda come tutti gli altri Scrivi punto esclamativo coda E segui le istruzioni di stream elements Io dopo di questa devo fare entrare un ragazzo che non è che non può connettere l'identità E poi continuo con la lista qui Quindi dopo un ragazzo c'è Manuelito TV che ha preso il posto per un suo amico E dopo del suo amico faccio entrare gli altri No 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 sorella lo tolgo Perché? Mi ha detto che stacca Ah stacca? Non incontriamoci Va bene Sei sicuro? Pronto dormi 100 euro Faze ti do pure 200 Ok ragazzi Non basta avere Faze nel nome Allora devo fare entrare solo minichini E poi dopo una volta che voi vi siete messi in coda io continuo con la coda Io ti odio profondamente ancora di più Io ho mano lì Mano bellissima Vickyndi Dove siete buttati scusate? Ok Un po' capì ma tutta piena di neve Bella 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 Toccato che quando porto Grazie baffuto I miei 10-15 fissi Fissi Quando porto Se io erano ce ne ho 5 Eh pure io quello Ti preoccupa È normale perché Porta la vita c'è più No ragazzi Non c'è niente O venite di qua Qua casa rossa vuota? C'è almeno No 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 c'è uno E io c'ho E io c'ho Il po' blu Buono Qua c'è paura Qua c'è un po' cos'altro Vai vai Lasciate da stare Oddio ce l'ho fatta Dov'è? No Quello è morto Sono qua dentro No Non ci sono casi No no è morto quello Andiamo Andiamo di qua Dai vieni Donna che paura Un po' te sta Visto da viola Dove sta Faze No dai Ciao pico Cazzo di che mi stai facendo Il mio voglio di giocare A chi lo dici Preppe mobile Su ps4 Non mi puoi scegliere La mappa Porca miseria Dove stava questo Sulle scale Ma Stai attento Stai attento 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 Sulle scale Attenzione Eccolo Eccolo Grande Colpa mia Che non so Stare a te Tanto Stai preoccupando Aspetta Aspetta Mirai Il disauro Vaffa Cuova Uno l'ho messo a terra Vanno Questa ora è sonno Ero io Ma che figa Ma quando c'è sta skin L'anno scorso Perché ho preso il disco L'anno scorso Dai vado a morire Allora io faccio entrare tutti e due Voi due andate Faccio entrare due persone Allora Però se riesci a metterne uno giù Tu moro lo malissimo Dai No Dai Ma si può Ma come ha fatto Dai Ce lo sapeva Voglio dormire ma non riesco a staccarmi da voi Io boffudo Ecco tutti quei chili per te Ma perché state litigando voi due Allora Non puoi Devo continuare Le sono la live Quindi devo fare Siccome devo fare entrare Tanta altra gente Voi andate a fare L'uno contro uno Voi andate a fare L'uno contro uno E mi dite poi In live Chi ha vinto No Due Perché facciamo uno contro uno Con lui Voi guardate Se cosa siamo Ninja contro Tfew No no Faze Io devo Tanto devo fare entrare Altre due persone A dopo Ciao ragazzuoli Ciao Fatemi sapere Ciao A posta Allora io faccio entrare Mini Chini Vieni Mini Bichini Doveva entrare da prima E qual era l'altro ragazzo Che si voleva mettere in coda A mod Oh talpi Ma Se vuoi che Me levo E ne sei tre No no Ma tanto ce ne sono due Erano in due ragazzi Che dovevano entrare Non Poi Ti avevo chiesto Se giocava da play Perché così Tanto non ce ne sono tanti Oggi vanno Più a rilento Di solito Rivano tipo tutti insieme Quindi tranquillo Poi In privato Mi ricordi Che ti devo chiedere Una cosa A te Manu Dove Dove volete No su una live Su una live Cioè ti devo chiedere una cosa Su una tua live Che cosa è successo Poi ti chiedo Ok C'è un meglio Vabbè poi Su una persona Sì sì Poi Ragazzi Dove volete Su Twitch Su Instagram Va bene Ragazzi Chi c'era Io non mi ricordo Chi voleva giocare Try C'era Mi pare Ok Ok Hai visto Il Manuelito Un po' Sfasato Che io Un pochino Sei un po' Un po' Così Minichini Si è disconnesso Ragazzi Chi può Entrare No Minichini Cosa ci combini Minichini Ho fatto la rima Vai Ema Allora entra tu Che Minichini Si è disconnesso Quindi entri tu Comunque Baffuto Grandissimo Non riesce a lasciarci No no Non ci riesce Ha detto che ci ama Anche io ti amo Ti amo Baffuto Ti amo E lo so ragazzi I Faze Gli piacciono le sfide Fa così Di niente principe Giochiamo poi anche altri giorni Se vuoi Minichini è ritornato Ok Eccolo E poi Gli altro c'era Ragazzi Che c'era Tiano Manu Ha detto Baffuto Eccolo Minichini E me ne manca uno Manuel 17 Vediamo se c'è C'era Emanuale O c'era qualcun altro Prima Visto che qui Pare che non c'è Nessuno ancora Messo No Non c'è Ma Non c'è